bentornati ragazzi in questo nuovo video oggi nessun tutorial oggi mi sono incontrato con gabba uno del piccolo gruppo squattrinati on the road lui è qui è di terni sono qui a orvieto ci dirigiamo verso montemiata guardate che che gilet gabba de jabba la giornata non è molto soleggiata ma se con il caldo di questi giorni è meglio così comunque facciamo un bel giro un bel pranzo e ci divertiamo sto facendo una bella La sparata, bellissimi posti anche qua che si vengono spianati e il cappa che per casse sempre Qui siamo ad Acqua Bendente, guardate che bello Queste strutture vecchie Sinceramente non so cos'è Ma comunque è spettacolare La sparata, bellissimi posti anche Eccoci qua, stiamo tornando verso casa Stiamo scendendo ora dalla vetta del Montaviata con il mio amico Gabba Siamo mangiati un bel panino Due chiacchiere E ora ci facciamo un po' di strada insieme fino a Siena Passeremo dalla Val d'Orcia Altro posto meraviglioso da fare in moto Eccoci qua, ci fermiamo che Gabba deve fare la pipì Purtroppo lui è un po' anziano quindi deve pisciare Vabbè ha bevuto la birra anche Ecco ora abbiamo fatto la nostra bella pisciata Ora si riparte verso Siena Con due alipa E ce ne andiamo via con due alipa Beh cosa dire Guardate qua, guardate qua Qui siamo nelle strade della storia, della cultura L'Italia ragazzi è bella, l'Italia è bella E in moto ancora più bella Guardate qua, guardate qua che strade Guardate che panorama che ci abbiamo, guardate Una strada meravigliosa Guardate Guardate, guardate 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 Grazie a tutti.